Potremmo dimenticare il tuo nome, potremmo dimenticare la tua città, potremmo dimenticare la tua età. Quello che non dimenticheremo mai sarà il tuo altruismo, il tuo amore verso il prossimo. Ogni farfalla che incontreremo svolazzante e colorata, da oggi sapremo che sarà la tua anima. A tutti i medici, infermieri e al personale sanitario, che con il sacrificio della propria vita ha saputo combattere e aiutare chi stava vivendo la propria guerra contro il Covid-19. Immensa gratitudine. Maurizio Mastrini 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.